Mary Jane AFMR Hey, ciao! Piacere di rivederti qui Come stai passando queste feste? All'insegna del relax e del benessere mi fa piacere, mi fa molto 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 piacere Credo però di immaginare perché tu sia qui oggi Innanzitutto ti vedo struccata quindi l'ho già capito da quello Vuoi un trucco? Ok, come sai? Come al solito sei nel posto giusto Già, 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 ho delle cose interessanti da farti vedere Ah, sì, da applicarti Sì, per quanto riguarda il make-up Dimmi una cosa, hai messo qualcosa a casa? Solo la crema? Ok, ok Allora, oggi battezziamo questa nuova Spugnetta Stendiamo innanzitutto un po' di fondotinta, ok? Sì, sì Ah, io la sto passando bene questo periodo Meno stressante del solito Sì, di questo fondotinta veramente ne bastano poche gocce Ecco, lo ti faccio vedere Sì, è un campioncino Che se magari ti piace te lo potrai anche acquistare Ok, ora la faccio chiudere Ok... Allora, ecco, inizia giudizi Allora, ecco, inizia giudizi Allora, ecco, inizia giudizia questo è un fondotinta che uniforma l'incarnato, corregge le imperfezioni, nasconde quegli inestetismi come le manchie date dai brufoletti o un po' di manchie da sole si, fai ad una festa oggi? stasera? ah ok, allora data la festa e dato il periodo natalizio direi di glitterarci un po' che ne dici? si, altrimenti non è natale no? ah si, è vero ok, direi che con il fondotinta siamo a posto, davvero ne sono postate pochissime gocce per coprirli e se quando il fondotinta è buono, già è vero allora, voglio mostrarti il pezzoforte di oggi voglio applicare sulle due palpebre un ombretto particolare che mi è arrivato adesso ed è strabiliante e della nabla ancora qui dentro sensazionale dire poco veramente sensazionale dire poco ecco voilà che ne dici? che bei colori scintillanti oh si sono gelosissima di questa palette altro che hai capito bene, li andrò ad applicare su di te, te l'ho detto prima io vorrei proprio farti vedere la bellezza di questi ombretti, di questi prodotti che non sono nemmeno testati sugli animali tra l'altro sono 100% vegan mi dici qual è il colore che ti piace di più? so che è difficile scegliere perché sono tutti belli però visti così forse ti potrei aiutare, sai come? allora innanzitutto togliamo la pellicola che non mi raccordo nemmeno ci fosse ancora allora, ti faccio vedere questo questo qui poi con il secondo dito questo poi da quest'altra parte questi che ne dici? cosa ne dici? quale colore ti piace di più? questo e questo ok questo è sulla fragola questo cioccolato questo tipo blu note che va sul nero questo bianco 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 lunare direi che è pazzesca questa palette mi pulisco allora senti questi ombretti io uso applicarli con le dita per me hanno una stesura migliore o almeno è soggettiva come cosa con i pennelli non riesco sinceramente ad applicarli brava chi li sa fare o bravo chi li sa fare io con le dita mi trovo meglio quindi se non ti dispiace io adesso ti andrò ad applicare il bianco glitter insieme al blu note quasi nero glitter sulle palpebre con le dita se per te non è un problema ok posso andare dunque va bene va bene va bene allora questo era il dito che avevo sporcato di bianco quindi ci sta a pennello pennello che manca però ci sta a dito allora vedi che bello effetto che fatti guardi allo specchio un altro punto di qua poi vado con il secondo dito a prendere guarda che meraviglia che meraviglia non è spravitoso a colorare la parte stella proprio il codino della palpebra ok perfetto sarai super glitter super glamour stasera sarà la più bella della festa secondo me sì sì lo puoi dire forte no direi di non aggiungere altro no direi di non aggiungere altro no direi di non aggiungere altro sugli occhi né matita né eyeliner per lavare questo andremo ad applicare esatto andremo ad applicare soltanto un po' di mascara 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 per rendere lo sguardo più intenso oltre che luminoso chiaramente direi che ci siamo pulisco le dito tutte le mani brillantate ok adesso applicheremo il mascara bellissimo anche quello napla ecco eccolo qui ci manterremo anche con il lip gloss sul tenue perchè abbiamo già le palpe perchè sono belle illuminate belle glitterate che è l'immagine che la un po' 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 semplice strisciata più di una semplice strisciata però non ti preoccupare non però non ti preoccupare non è non rimane molto prodotto sulla pelle giusto è necessario per illuminarti ok e poi da questo l'adunque ok bene ci siamo ok sei perfetto puoi guardarti meglio allo specchio adesso ti piace il risultato sono contenta mi fa piacere sì stasera sarai perfetta non ci sarà nessuno che potrà dire sul tuo look sì vai bene indossa un abito bello scintillante che sintoni a questo fantastico make up che abbiamo realizzato quest'oggi grazie allora dunque per avermi scelta ancora una volta come tua make up artist personale ci rivediamo una prossima volta se tu vorrai per un altro splendido splendido make up ok ciao 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 Grazie.